I fan di Brad Pitt non hanno fatto in tempo a sperare in un ritorno di fiamma con Jennifer Aniston, che già una nuova attrice è stata accostata al divo olivo odiano. Stavolta, si tratta della biondissima Kate Hudson. Gli ingredienti per che si scateni il ciclone del gossip, ci sono tutti. Lui ha chiuso la relazione con Angelina Jolie, lei è ormai lontana da Matt Bellami. In questi giorni, inoltre, il sito Woman's Day ha riportato le parole di Chris Herzog, guardia del corpo che si proclama amico di vecchia data di Brad Pitt, che sembra confermare la relazione tra l'ex marito della Jolie e Kate Hudson. Kate è la donna misteriosa di Brad. Nelle ultime settimane, sono diventati molto uniti. Si sono incontrati segretamente, diverse volte. Conosco bene sia Kate che Brad e l'idea che possano frequentarsi, non mi sorprende affatto. Kate è una donna meravigliosa, Brad sarebbe fortunato. Herzog, negli ultimi tempi, è spesso intervenuto per commentare le vicende sentimentali di Brad Pitt. Non è detto, dunque, che le sue dichiarazioni non siano spinte solo dalla ricerca di una certa attenzione mediatica. Alle sue parole, infatti, si contrappongono quelle di altre fonti, riportate da diversi media internazionali. Gossip Cop sostiene di aver parlato con una fonte vicina all'attore, che avrebbe assicurato che la notizia è totalmente infondata. Anche il Daily Mail ha chiesto conferma dell'indiscrezione a fonti vicine a entrambi i diretti interessati. Anche in questo caso, la risposta è stata la stessa. La notizia è falsa. Non resta che attendere le prossime settimane, per scoprire eventuali sviluppi nella situazione sentimentale del 53enne. Chi se ne frega!